C'è una cosa che mi fa un po' paura anche, ed è il concetto di normalità. Noi stiamo pericolosamente andando verso il principio che quello che stiamo facendo è normale, che stare chiusi e lontani è normale. No, è eccezionale. Ma la normalità non esiste, esiste la natura. Uno dei miei ruoli, dei nostri ruoli, del ruolo dell'arte, della musica sarà quello di educare e con dolcezza accompagnare a quella che è la nostra natura, non normalità. Perché certe normalità, quelle aberranti che portano alla distruzione, quelle sono anche normalità, ma sono contro natura.